Bentornato, bentornata su The Art of Playing. In questo video voglio parlarti dell'errore numero uno che tu, proprio tu che sei lì dietro allo schermo stai facendo e che ti sta bloccando dal progredire nello studio, dal migliorare al pianoforte. Quindi se è l'errore numero uno, è proprio l'errore in cima alla lista che tu stai facendo, se riesci a sbloccarlo, a risolverlo, beh, ti cambierà la vita sostanzialmente, perché è proprio l'errore in cima alla lista. E mi dirai nei commenti se sto dicendo una balla oppure no, quindi stai fino alla fine del video perché è una sfida, no? È una sfida tra me e te e vediamo se hai ragione. Allora, l'errore numero uno che tu stai commettendo quando ti metti seduto lì al pianoforte è quello di non fare tuoi gli insegnamenti del tuo maestro, l'insegnamento di questi video di YouTube, l'insegnamento che trai dai libri, dai manuali, dai testi di armonia, dai testi di solfeggio. Ah, ma Matteo mi sta dicendo che allora io non sto studiando oppure non ascolto il mio maestro. No, magari tu lo ascolti, ma anche troppo. Che cosa vuol dire? Che vai dal maestro e lui ti dice, guarda, torna a casa, mi studi cinque battute a tot metronomo, ci vediamo la prossima volta, oppure leggimi questo pezzo a mani separate, ci vediamo la prossima volta. Magari tu lo stai anche facendo in maniera pedisse, qua uso questo termine, cioè lo stai facendo in maniera rigorosa tutte le settimane, porti i pezzi, sei attentissimo, stai studiando tutto, perfettamente. Puoi anche avere questo tipo di approccio e nonostante questo non star facendo tuoi gli insegnamenti del tuo maestro. Perché questo? Perché c'è una enorme differenza tra metodo ed esperienza. Ragazzi, non è un discorso filosofico, non voglio partire adesso col sermone sulla differenza tra metodo e esperienza, filosofica o non filosofica. Ragazzi, è un discorso estremamente pratico, quindi inutile che adesso chiudete il video e adesso mi fa il sermone sull'esperienza. No, è qualcosa che vi serve, chiuso questo video, immediatamente, appena vi siete al pianoforte, penserete a questo. Penserete, ma io sto facendo miei i concetti che studio, sto facendo mio questo pezzo, sto facendo mio l'insegnamento che mi ha dato Matteo sul canale di YouTube, The Art of Playing, questo insegnante di pianoforte che mi è uscito a caso qua su YouTube, io sto facendo miei questi insegnamenti, sto avendo nel mio cervello una mia versione di quello che lui sta dicendo. Probabilmente sì, la stai avendo, ma deve essere conscia, non inconscia. Anche quando un tuo maestro ti dice studia a casa cinque battute per volta. Sì, magari la tua versione di come devi fare a casa ce l'hai. Ah, sì, vado a casa, devo fare cinque battute. Però io sto parlando di qualcosa di estremamente conscio e ragionato. Cosa vuol dire? Il maestro mi dice, per esempio, studia tre battute alla volta. Come le studio queste tre battute alla volta? Che cosa vuol dire per me studiare tre battute alla volta? Ti sei mai risposto a questa domanda? Cosa vuol dire per me studiare tre battute alla volta? Per esempio, io quando ho cercato di rispondere a questa domanda, beh, mi sono seduto al pianoforte e ho detto beh, per me significa crearmi un checkpoint. Quindi queste tre battute mi devono servire come checkpoint. Che cosa significa checkpoint? Significa, diciamo, punto di salvataggio, no? Punto in cui sono un po' più sicuro, in cui mi sento sicuro che se la musica si ferma, se mi interrompo, da lì posso ripartire, ok? Non so se l'ho detto in italiano corretto questa cosa, però non fa niente, ci siamo capiti, no? Quindi io ho dato una mia interpretazione a quello che il mio maestro mi stava dicendo. E se ci pensi in tutti gli ambiti della nostra vita, adesso non chiudere il video perché ogni volta che parto con queste metafor io lo vedo nella retention, nelle analisi di YouTube, sembra che adesso io stia dicendo qualcosa di filosofico, quindi uno dice no, chiudo il video perché ho capito, ho già intuito. No ragazzi, no, credetemi, è un concerto complicato. Allora, se io vado a correre o vado in palestra, ok? Questa è la metafora che stavo per fare, ho ovviamente un mio corpo, giusto? Non ho il corpo di tutti gli altri, quindi il metodo, il metodo di allenamento, quello che magari è il metodo universale per migliorare nella corsa, si dovrà comunque sempre applicare al mio corpo, giusto? Quindi, per esempio, se io ho delle articolazioni fatte in un certo modo, ho dei problemi articolari, e voglio migliorare i bicipiti, dato che stiamo parlando di palestra, quando vado in palestra non tutti gli esercizi vanno bene per me, eppure tutti gli esercizi che migliorano i bicipiti hanno questo scopo, dovrebbero in teoria farmi migliorare, far crescere i bicipiti. Ma alcuni potrebbero non funzionare. Questo non vuol dire che quell'esercizio non fa migliorare i bicipiti, ma vuol dire che non era adatto a me. E la stessa identica cosa succede nel pianoforte, ragazzi. Se voi non vi fate una versione estremamente personale degli insegnamenti, e io penso di avervelo dimostrato, che l'ho fatto, con il metodo di lettura pianistica, che è sì un metodo, ma è estremamente personale, se ci fate caso, è una cattedrale nel deserto. Sembra qualcosa che non ha un prima, non ha un dopo, non c'è un filone che io seguo. Sì, c'è una bibliografia, ovviamente, diciamo, la base sono i testi tradizionali, ma interpretati da me, ovviamente. Quindi è un'interpretazione estremamente mia. Non volevo creare un metodo universale che potesse applicarsi come la pappa pronta a te, ma volevo dare l'ispirazione di cercare un tuo metodo. E in quel metodo, diciamo, che cerco proprio di fare questo, di fornirti degli spunti generali per costruire una rete di conoscenze che però non va mai al nocciolo della questione. Cosa che alcuni criticano, magari, no? Alcuni possono dire, eh, vabbè, ma tu hai detto tante nozioni, quindi sì, introduzione pratica alla lettura della musica, però non vai mai a dirci esattamente come dobbiamo fare una cosa. Eh no, perché se io ti dicessi esattamente come si fa qualcosa, mi starai mettendo al tuo posto. Cosa che nessuno può fare, quindi non ti far ingannare neanche da insegnamenti rigidi, no, tu devi fare così perché il passaggio si risolve esattamente così. Magari è vero, ma devi trovare la tua versione di quella verità, la tua versione di quella cosa che ti stanno dicendo, perché altrimenti è semplicemente una pappa pronta che ti arriva e non è detto che funzioni per te. Poi magari funziona, eh, ci sono anche delle volte in cui, esattamente come ci dicono una cosa, inconsciamente abbiamo già un'idea molto precisa, però questo deriva spesso dal fare tanta esperienza di una continua personalizzazione di quello che ci viene detto. Quando uno continuamente fa propri i concetti che arrivano da metodi, insegnamenti, dopo un po' è molto recettivo, riesce subito a fare il doppio passaggio, quindi arriva qualcosa da fuori, un insegnamento, qualcosa che può essermi utile, come la posso digerire io? Come posso trovare io la mia versione di quella cosa lì che possa andare su misura rispetto al mio tempo di studio, al mio ritmo di vita, al mio corpo, alla mia salute? Abbiamo visto in uno degli scorsi video, e questa è la cosa forse più importante di questo video, quindi se adesso chiudi il video proprio non ti perdi la cosa più importante, abbiamo visto che studiare, migliorare nella lettura, quindi ti ricordi la live, come leggere la musica più scorrevolmente, non è semplicemente mi esercito, applico un metodo, ma è fatto di un miriade di sottoinsiemi, di strati, no? Come una cipolla, no? È fatto di tantissimi strati che sono interdipendenti, scusami, l'uno rispetto all'altro. Interdipendenti, quindi lo strato più piccolo non è isolato da quello più grande, ma neanche quello più grande è isolato da quello più piccolo. Quindi se, per esempio, a me manca una conoscenza profonda del mio corpo, di quello che per me è meglio, ti faccio un esempio, io ho bisogno di fermarmi, mettiamo caso, 20 minuti, perché altrimenti mi fa male la schiena. Se io non ho questa consapevolezza, mi farò male la schiena. Quindi, quello strato piccolo, quella piccola consapevolezza, che ovviamente rispetto a tutto quello che io devo sapere per studiare, è solo una piccolezza, mi devo fermare ogni 20 minuti. Poi, l'armonia che c'è sullo spartito, l'interpretazione ritmica, l'interpretazione agogica dello spartito, come studiarlo, come risolvere la ligeggiatura, sono tutte sovrastrutture, no? Ma se non c'è questo nocciolo, manca anche la sovrastruttura, e quel nocciolo è proprio ciò che crea, diciamo, o meglio, ciò che determina la tua persona, il tuo corpo, quello che tu sei. Quindi se non metti in conto anche tutti gli aspetti personali nello studio, non stai creando questa interdipendenza, stai semplicemente, spesso succede questo, applicando qualcosa. Io prendo una cosa, la applico. Mi hanno detto che si fa così, di studiare a mani separate. Poi, che cosa voglia dire studiare a mani separate? Boh, io se chiedo al 90% dei pianisti che conosco, che cosa vuol dire studiare a mani separate? E quel 90% qualcuno, sì, ti rispondo ovviamente, perché, insomma, se una persona è diventata un pianista, presumibilmente ha fatto un lungo percorso, in questo senso, di personalizzazione, ma troverò sempre qualcuno a cui quella domanda farà bruciare qualcosa dentro, o comunque non troverà una risposta a quella persona, perché è qualcosa su cui è anche difficile riflettere, no? Che cosa vuol dire studiare a mani separate? Quando, come, in che contesto, con quali note? Quando ci sono quattro voci, devo studiare a voci separate o a mani separate? Quando ci sono voci distribuite in un certo modo, magari solo nella mano destra, oppure c'è una simmetria, quindi, o sia mano sinistra che mano destra, devo comunque fare mani separate? Quando la simmetria mi aiuta? Cioè, quando usare le mani insieme mi aiuta a memorizzare il pezzo? Devo ancora fare mani separate? Cioè, ragazzi, ci sono miriadi di casi, quindi studiami questa cosa a mani separate. Può voler dire qualcosa per il tuo maestro, può voler dire qualcosa per il tuo collega, può voler dire qualcosa per te, può voler dire qualcosa per un grande pianista internazionale, e quindi tu devi sempre, e comunque, cercare il tuo modo di ascoltare il metodo, l'insegnamento e l'esperienza che qualcun altro ti cerca di trasmettere. Quindi questo, secondo me, è l'errore numero uno che stai commettendo nello studio del pianoforte. Se non è così, scrivimelo nei commenti. Se è così, mi piacerebbe ascoltare la tua storia. Quindi, a maggior ragione, scrivi, fai capire a YouTube che questo canale ti interessa, che è qualcosa, insomma, che se ti compare nel feed, insomma, hai piacere, no? Ormai abbiamo il feed pieno di discemenze, magari se ti guardo ogni tanto un video dove parliamo di qualcosa di importante, di importante, legato al pianoforte, insomma, può essere positivo, no? Per la tua vita, per il tuo percorso. Quindi, metti un mi piace, iscriviti, non soltanto per, ovviamente, far crescere questo canale, ma anche per avercelo un po' più nei feed, tenerci un po' più in contatto. Quindi, io aspetto il tuo commento qui sotto e come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!